Stefano De Martino all'Isola dei Famosi, il gesto d'amore per Gilda Stefano De Martino e Gilda stanno ancora insieme, la prova all'Isola dei Famosi. Altro che semplice amicizia, il rapporto tra Stefano De Martino e Gilda Ambrosio cresce sempre di più. E la lontananza dovuta all'Isola dei Famosi sta rafforzando il sentimento tra il ballerino e la stilista. Come fa sapere il settimanale chi nell'ultimo numero in edicola, l'ex marito di Belen Rodriguez è in costante contatto con Gilda. Quando non è impegnato con prove o registrazioni in Honduras, De Martino si concede delle lunghe videochiamate su Facetime con l'Ambrosio. Un modo per restare in contatto e tenere viva la fiamma della passione. Non solo, Gilda sta diventando sempre più amica di Adelaide De Martino, la sorella di Stefano. Le due escono spesso insieme e Adelaide che in passato era molto vicina a Cecilia Rodriguez non è mancata alla recente fosta di compleanno di Gilda. Le parole di Stefano su Gilda Ambrosio prima della partenza. Gilda è una persona di cui mi fido, che sento vicina, ed è ovvio, da fuori, pensare ad altro vedendomi con lei. Ma mi affianco spesso a figure femminili perché ho bisogno di confrontarmi con loro, le donne hanno una marcia in più ha spiegato Stefano Di Martino prima di partire per l'isola dei famosi. Ho messo in pausa la mia vita reale per dedicarmi a quella professionale ha aggiunto l'ex protagonista di Amici. Ma è davvero così? O si tratta dell'ennesimo depistaggio? Alla luce dei recenti gossip sembra proprio che Stefano voglia impegnarsi con Gilda con riservatezza e descrizione. Soprattutto dopo aver vissuto due storie eccessivamente mediatiche, come quelle con Emma Marrone e Belen Rodriguez. Chi è Gilda Ambrosio, la carriera e la vita privata della stilista? Gilda Ambrosio ha 26 anni, è nata a Napoli ma vive a Milano. Si è trasferita qui per lavorare nel mondo della moda, è una stilista e web influencer. Prima di conoscere Stefano Di Martino ha avuto una relazione con Andrea Rosso, figlio del patron della Diesel. È molto amica di Francesca Chillemi, l'ex Miss Italia oggi attrice, impegnata con l'altro proprietario del noto brand di moda, Stefano Rosso, dal quale ha avuto la figlia Rania. Grazie a tutti.